LUME 43-16 Abbiamo tirato dentro anche gli americani Ciao a tutti ragazzi Sono Luke e sono in compagnia di Nabbazzo A Kimbo Nanos E Soul Shevan I 4 dell'avventura di LOL Bene ragazzi Come promesso Spendete di ballare ragazzi che sto bamba bamba mi sta rompendo Che è Tubo che scrive ma che fate? Che è? Tubo è qui Vabbè ragazzi come promesso ricominciamo da zero Abbiamo appena creato un nuovo PG Per cui ricominciamo da zero E partiamo in questa fantastica missione Soprattutto serie Che troverete anche le visuali di A Kimbo Nanos E Nabbazzo sui loro canali In description Bene cominciamo 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 A Kimbo se non ti sposto ti sparo E non si vedrà nulla Ah ragazzi rispondetemi nei commenti Se volete che giochi Con questa visuale in terza persona O con questa in prima Magari cambi un po' un po' dai Andiamo a cambiare subito il colore delle armature ragazzi Facciamo vedere un po' la città principale Sì state facendo Che cazzo Ragazzi stiamo tutti vicini Non iniziamo a perderci però Allora primo white point Missione completata Perfetto Ok Qua c'è il dottore Questa ragazzi è la cittadina principale Dove nascete diciamo Comunque grazie al mio video Che ho fatto oggi Ragazzi è andato in tilt il sito E' esploso Tanta gente ha trovato il sito chiuso O bloccato Non è colpa me Oh qua c'è un negozio Io voglio trovare ragazzi Quei macchinari Che ci cambia i colori delle armature E anch'io Vorrei cambiare tutto Solo ti ricordi dove era? Sì è dietro Com'è dietro? Nabba vieni qua Scegli su Ah qui 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 Loro vanno a cavolo Io non li vedo Dov'è? Eccolo chi Prendiamo la E E voilà ragazzi Cambiamo il colore di armature Il giallo è mio Non mi rompete Il rosso è mio E' verde E' blu Purtroppo Chi è questo che parla qua? Ragazzi Vuoi far cambiare i colori? Allora A voi vuoi far cambiare? Sì sì Warpaint Ho sbagliato macchinario io Ma a me non mi fa cliccare sul terzo Eh no Sì devi aspettare che fate Deve sincronizzare Eh no Ho già fatto Warpaint Qua mi fa selezionare tutto Ma tranne quello Ma che macchinario sono io? Giusto? Ah ok Adesso si Ecco Tanti Cos'è il warpaint? Scegliamo il giallo Allora verde No 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 Io il rosso Dov'è? Io mi metto Mi metto No ragazzi Ma sono tutti a pagamento adesso No no Vai giù Non c'è più il giallo gratis Sì sì Ecco te lo chi Io mi metto anche il logo della MSI Confirma Come fai a mettere il logo? Vai su Sotto quello di warpoint E mi metto il logo della U Eh beh io metto il logo ragazzi Sono io Ah mio Non abbiamo detto una cosa importante ragazzi Mettiamo più grosso così No troppo Così Tanchete Lo piazzichiamo chi? Olè Confirma Bene ragazzi Ho messo il simbolo del medico Perché io sono medico Nabazzo tu sei invece? Eh Boh Non sono io Eh Così non è il tank Lì con la specie di cose Un assalto Un assalto è bravo Poi il tank è Solshevon E Akimbo è il L'ingegnere Bene guardate Mi hanno cambiato i colori dell'armatura Tanchete Io sono giallico Bene andiamo ragazzi Andiamo a fare le prime missioni Dai così poi Se no vengono troppo lunghi video Eh Siamo già a tre minuti Quasi quattro minuti Eh infatti dai Muoviamoci Muoviamoci Arrivo Eh guardate che fighe le tutte Guardate Almeno ci riconosciamo in mezzo alla mappa Dai andiamo Andiamo Bella Oh scendete le torce Che se no non si vede un cazzo Eh ma è sempre notte in sto cazzo di servo Se no non vedo un cavolo Eh anch'io No io terza Mi piace troppo Ah con shift si corre E quella barra spazzatrice Cos'è qua? La prima missione Prima missione Ah la coppa cabana è vero Tanchete Io Bene ora Adesso dobbiamo andare a fare quello dell'ora Ah water Water lì Quella che abbiamo fatto Ok si è aperto la mappa automaticamente da sola Sì lo so Non mi cagare le scatole Bene Ragazzi 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 non è che noi sappiamo tutto del gioco E' che la prima missione se vi ricordate l'abbiamo già fatta oggi nel video Ma da lì in poi non sappiamo più niente Ma come mai non me la segna a me? Hai fatto la valvola lì? No devo fare un lock per caso No no Io sono già arrivato Ho voluto via Ho voluto via Ho voluto via Non me la fa fare vabbè Ah ok Dobbiamo tirare la valvola qui Oh chi mi ha spinto Che so chi mi ha spinto Ma no Ma non mi ha preso la missione Tanchete Bene Ragazzi stiamo tutti vicini Per invece andare a cavoli vostri Ma non mi ha dato la missione Ah ragazzi abbiamo scoperto una cosa Con la Q Cambiamo le armi Ora c'ho che bello sto mitra Non è un mitra Bene Ha fuggito la pompa Cos'è? Dimmi che è che ha fuggito la pompa Oh l'avete completata? No Eh 20 01 su 20 Cos'è sta la lumaca? Ora No ragazzi Cosa no Non potete capire Non si ricorda come finisce la prima missione Ma ragazzi non sono questi che comunque E quindi non mi ha Non mi ha tolto le missioni Non so che cazzo è successo Eh ragazzi Non sono questi Dobbiamo uccidere noi eh Eh le uova dobbiamo trovare Come le uova? Siamo la prima missione Manu Dobbiamo uccidere 7 di quei Oh i 20 di questi qua Eccoli Che bello il lanciagranate Oh E c'ho il lanciagranate Io? Beh io non posso fare la missione Bello Ma non ho capito Nobba perché? Perché mi dice che Devo fare ancora il waypoint 1 E vado a fare Non sei passato di là allora Ci vado a sopra E non mi fa fare Non so che devo fare Eh ormai finiamo il video Poi al massimo dopo Riesce e rientri Finiamo sta missione Vabbè io Ancora uno di 20 ragazzi Io sono due di 20 Perché ci sono altri Che la stanno facendo Eh per quello Troviamone altri noi Per i cavoli nostri Che poi dovrebbero rispawnare In teoria Questo chi è? Non lo conosco Ah venite con me Io lo so dove sono Venite con me No scusate di là Venite venite No oggi erano qua Invece non ci sono più Eh li avranno già fatti Eccoli 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 correte Niente Tanti eccoli qua Quelli vedi Già li han già fatti Oh qui è sto coso Io posso curare Con che cosa curo? Con la? Con il destro mi sa Con la Q Con la Z scusa Con la Z Ok l'ho curato Tadalla Eh 18 secondi Fabio Chi è che sta ballando? Eccolo ragazzi Eccolo 2 su 20 3 su 20 Mi sa che cambio arma Che è meglio va 3 su 20 pure io Però strano che ce n'è pochi Eh no Pensavo che ce n'è funzionato No perché ce n'è tanti Che la stanno facendo Oh di qua di qua di qua Oh quanti ce n'è qua ragazzi Oh porca loggia Cos'è sto coso che si muove? La vita la vita la vita Grande Mamma mia non sto capendo più nulla Ma quanti cavolo ce n'erano? Oh non mi fottete i miei cristalli eh Ragazzi dall'acqua arriva qualcosa di strano Sto morendo io E' un po' di prima Aiutami Sì ma questo non è il nostro Arrivano a pazzo senza missione Manu si vieni Eh dove sei? Si vieni qua ti aiuto Ma tu te ne vai via? Non posso muovermi Sono morto Come sei morto? Eh si cazzo Ero lì davanti a voi sdraiato per terra Ma se non tu ho visto? Vedi Ma che non c'eri eh Manu Ero nell'acqua Ma questi sono tutti i pro Io non ho capito una ceppa Ma come è pro che non so giocare io Nabba Non so neanche perché Non ti ha dato il primo missione lì Ma che ne so Io vengo con voi Sparo Poi la farò Spetta aiuto questo qua Dov'è? Oh 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 Mi diamazzo Ah ma se vai nella qualta Muori affogato Ragazzi sto molendo anch'io Dove sei? Oh muori crepa Oh sono a 13 dai Ma chi è che è? Bella datemi tutto Ma io non mi posso autocurare? Curatemi va Oh ma che cazzo Vano spacchi davanti? Sono morto Dove sei? Bella Io vivo o sei morto? No ci sono ci sono Ma che casino Gli ho fatto la Se mi curi è una grandiosa bella cosa Eh soul Se mi dice che cavolo siete però Eh proprio questo qua è Attento Sono dietro Sto morendo Non sento più i rumori Non sento più i rumori Sto morendo Dove sei? Sono morto Sono morto Ti rianimo va? Eh Ce la fate eh? Sì ce la faccio io 8 secondi 7 secondi Grazie amici Anche a me Devi la vita mi devi Anche tu solo Ti sto rianimando Ti sto rianimando C'è un appazzo qui Vedi cosa vuol dire stare vicini A me mi si è bancato l'audio Eh l'audio ti si bacca quando stai morendo Non è un bug Tento sparare ma Non sono stato sparando Io sono a serie Ce ne mancano 4 Dai porca logia Qualcuno mi può curare raga Oh no ma oggi era molto più facile il gioco Mi puoi curare Eh mi dici dove sei? Qua 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 Guarda Non ho notato era più Eh dietro Tu? Qua? Stai fermo Manu Ma quando sei fermo? Non c'hai il più Non ti posso curare Vediamo Ma che brutti Ti ho curato? Sì C'è uno che balla qua Oh è sta mosca qua Torniamo indietro l'obiettivo Questi qua saranno sicuramente i tuoi fan che stanno cagando le palle Sì sì Sono l'ora Oh non insultare i miei fan No io non li insulto però ci stanno rovinando la quest No più che altro sta durando più del solito Eh infatti siamo già 11 minuti e 20 grazie a loro Venite venite non trovate altri Oh due ce ne sono venite Dove dove? Qua qua Pomm E pomm Buon divertimento Tutti miei Io sto morendo Da ma ne mancano tre a me Che casino Vita 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 Grazie Guarda che casino che c'è Aspettiamo magari li rispauna Ci basta girare intorno Poi li spawnano da soli Eccoli Eccoli qua No Era finto Era finto Ah ecco la missione dov'era Che pirla Che pirla Un abbazzico Eh ragazzi qua qua Devo ammazzare 20 di quelli adesso Vai 19 No a me ne manca uno Prima sono sette E a me ne basta fare uno Poi li lascio tutti a voi Eh Provare adesso Torniamo indietro Torniamo indietro Magari sono spawnati gli altri Allora Allora Luke è il giallo Ma ragazzi chi è l'ingegnere di noi Può piazzare le torrette È vero Con la z Con la z Piazzare la tua skill Ne puoi piazzare fino a tre ho visto Quindi Luke medico Mettile vicino Manu mettile vicino gli spawner Eh a trovarli Eh qua qua in mezzo bravo Mettili da tutte le parti vai Oh stava sparando la mia torre Sì sì Eh se spara vuol dire ci fa Eccolo Guarda 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 io guarda Guarda adesso rispauna Siamo qua Ragazzi comunque è una figata questo gioco L'ho già detto oggi E speriamo di andare il più avanti possibile Una figata scusami Una figata di dire poco Già già Una roba della madonna questa Ma poi è divertente Dai ma ne manca uno ma è possibile 14 me ne mancano 6 Io non ce l'ho la missione vai che ce l'ho Eh che l'ha finita non spari grazie Eh grazie se è solo eh Sto usando lo scudo io Guarda è un ciccione Qua sopra qua sopra qua sopra Eccoli eccoli Ragazzi ho finito i proiettili Cambiamo Non ci credo Ma ci ho lanciato insili Il lanciagranata e patate qua Oh eccolo Oh c'è un altro uovo lì Ok ho fatto la missione Ma lontano Manu mettiamoci da parte Io e te Sol Io ancora no Io ne devo ammazzare ancora 5 Io la faccio da sola Come l'ha finita Perché ovviamente Mi abbazzo Ha fatto il solito fail Vabbè manca Non so se ti mancano 5 Poi siamo Ah tu stai anche registrando È vero Sì Perché se no andavamo già la seconda Bene ragazzi Se volete vedere la parte di Akimbo Mentre finisce Ecco le manu Vieni qua Ti dà la mano Corri Ce ne sono tanti qua Eh è vero Bisogli restare vicini Guarda quanti ce n'è Gemma Gemma Ce ne sono tanti Bella Eh li hanno ammazzati Centro Eccoli Vai eccoli Oh ricarica Ah no è vita questa A me serve qualcosa Che mi ricarichi Andiamo avanti qua Vedo gente Eh ma occhio Che se andiamo nella zona Dove c'è l'altra gente Sono cazzi nostri Poi eh Inoltriamo qua Ragazzi in acqua è pericoloso Ci sono quelli degli esseri strani No è più caldo Che si vende l'acqua alta fuori Basta che saldi Eh ragazzi Guardate qua C'è sto balzo Ho visto Dove siete? Ah Guardate quanta gente c'è 16 su 20 Yeah Allora E dove ritrovare io So lì sono qua Vieni con me Vieni con me Che andiamo dagli altri Gemma Aspetta mi limbo Limbo? Limbo Oh che è sto coso Ragazzi esce un coso dal terreno Eh ragazzi Qua siamo fuori Dalla nostra missione Non sono i nostri Le nostre cose da killare Che cazzo c'è lì E' quello che si sotterra Ok 18 Ma cos'è sta roba? E' un bruco gigante Fabio No la pazzo Dietro Manu ce l'hai dietro Uccidilo Ce l'hai dietro Manu? Ok finito Ammazzato Bella Ragazzi Ce ne sto pari Oh quanti ce ne è Tanto saliamo di missione Il cazzo Sto per morire Oh quante cristalli Mio bastardo Mi fottono i cristalli Da Luke Nabazzo A Kimbo E solo scemo Ne è tutto Uccidiamo questo coso Chi? Oh ma Mio 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 Ragazzi pollici in su al video Se volete che continui la serie Ma comunque sia È già cominciata Per cui vedrete abbastanza episodici Da noi è tutto Ciao a tutti Ciao Ciao Ah beh ragazzi scusatemi eh Dance 13 minuti di video raga